bene ciao a tutti partiamo subito perché questo è già il mio secondo tentativo di registrazione e insomma eh dai allora stiamo parlando di Kamezuar nella sua versione per tastiera partiamo subito dall'incipit che è formato da poche note si parte da mi tolgo il pedale mi mi fa fa diesis la fa la fa 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 mi tutto con una mano si può fare con pollice indice e medio rispettivamente su mi fa naturale fa diesis poi qua ci potete mettere o il mignolo o l'anulare la fa la fa 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 mi si mi mi si lo faccio con l'anulare ok si mi fa fa la fa la fa 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 mi si mi mi si mi fa fa la fa la fa 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 mi si mi mi si mi mi preferisco preferisco il mignolo però potete farlo anche in maniera diversa potete usare due mani quindi io metterei l'anulare e il medio trovo anche più scomodo anulare medio e indice però fate voi che tocco sopra fino questo è, nel senso che io ho usato la mano sinistra con l'anulare medio e indice su mi, fa e fa diesis poi il la e fa suonati con l'altra mano l'indice il la e l'indice della sinistra il fa diesis finisco sull'anulare mi poi si con il medio e ricomincio ovviamente è più bello se lo fate all'ottava bassa qua, tipo qua, no? è brutto perché c'è il filo quindi, intanto alla fine è la stessa riteggiatura vi faccio sentire solamente come suona più bello poi fate vobis dopodiché c'è l'attacco del cantato quindi il cantante canta come si vuole eccetera a un certo punto arriva alla parte accordale la parte accordale è formata da questi due accordi un fa minore è un po' farlocco perché non c'è il il la che appunto lo fa diventare minore ma c'è un fa diesis si e do che lo rende un po' sospeso non si sa se è maggiore o se è minore minore triste felice ok? comunque torniamo a noi la risposta è uscita qua così non si vede il filo fa si e do diesis ok questo è la maggiore quindi fa sospeso diciamo diesis sospeso fa sus con anulare sul fa diesis indice sul si e nell'altra mano l'indice sul do diesis se volete farlo con una mano sola pollice sul fa diesis indice sul si anulare sul do ok vediamo se riesco a darvi una panoramica così bello però dovrei stare piega tutto il tempo ok comunque fa diesis si do così poi il la maggiore la do diesis mi ok quindi memory scusate fa quattro volte dopodiché riprende riprende tutto quindi rifa il mi risiedo rifa tutta la parte iniziale dopodiché rifa la parte degli accordi qui il pedale è più bella ok la diteggiatura è quella di prima dopodiché cambiano accordi si maggiore e poi re maggiore come la diteggiatura prima abbiamo usato pollice indice e anulare per fare il fa diesis sus e il la maggiore allo stesso modo qua si col pollice re diesis con l'indice anulare sul fa diesis diciamo si maggiore re fa diesis la facciamo re maggiore quindi così ok dall'alto proviamo così esattamente anche questa la facciamo quattro volte dopodiché riprende il tema eccetera non sono in grado di farlo e che cantare poi canto male sembra qualcuno che ha il mal di pancia la solo è una ripresa del cantato delle note il cantato quindi mi fa do do mi fa do do mi fa do do mi fa do do mi fa so 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 fa mi do do mi fa lo fa anche questo quattro volte poi ci sono di nuovo gli accordi di prima le note che note sono do diesis mi fa do do mi fa do do mi fa so 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 fa mi do do mi fa e sono sempre quelle dopodiché c'è la ripresa degli accordi che abbiamo visto prima quindi fa diesis si do fa sus e la maggiore la do diesis mi do rifa quattro volte anche questo poi c'è di nuovo si maggiore eccetera quindi è è tutto qua il pezzo poi ascoltando il brano guardando la parte che vi ho preparato potete capire quante volte bisogna rifare ogni inciso come vengono strutturati in che posizione stanno bene spero che sia tutto chiaro se non lo è chiamatemi in classe alzate la mano chiedete oppure scritte un commento ciao